E' iniziato sabato il ritiro precampionato della Paganese che si svolgerà a Gubbio fino al 28 luglio. 26 giocatori convocati, inclusi gli aggregati, più lo staff tecnico e i dirigenti che accompagnano la squadra. Questa l'attuale rosa che è chiaramente provvisoria. Portieri Boninconti e Rogerio Zotti, difensori a Campora della Corte, Pavan, Garofalo, Carotenuto, Riccio, Cardone, Bova, Avella, De Almeida, Furtado. Centrocampisti, Carcione, Benzaia, Ngambà, Bernardini, Mari, Fondi, De Laralo, Attaccanti, Cicerelli, Maiorano, Negro, Baxton, Stoia, Sburlino e Scarpa. C'è anche l'ultimo acquisto, il centrocampista Franco Camerunenzi Alvaro Ngambà, classe 1998 proveniente dalla Liga 1 francese appunto dall'Izza. Il nuovo centrocampista ha un contratto fino al 2020. Iniziata oggi, l'avventura della nuova Juve Stabia presso il ritiro di Fuggi. La guida tecnica sarà affidata al duo composto da Fabio Caserta, già capitano delle Vespe ed allenatore in seconda nelle passate stagioni, e Ciro Ferrara, in passato calciatore di Salernitana, Lucchese e Palermo, ed allenatore in seconda di Triestina, Regina, Salernitana e Catanzaro, che è appunto munito del patentino di allenatore professionista. Si punterà, come noto, alla linea verde con la rosa, che sarà totalmente rivoluzionata ed un budget notevolmente ridimensionato rispetto all'ultima stagione. Dopo un colloquio con Rainone, ha chiuso definitivamente la vicenda il presidente della Casertana, D'Agostino, che è intervenuto in prima persona per archivare la faccenda e che vede coinvolto il difensore. Tutto risolto, tutto chiarito e dunque Rainone resterà rosso-blu per l'intera stagione. Dalle notizie raccolte sembra che gli sia stato proposto il rinnovo e il ragazzo ci sta seriamente pensando. Se ne riparlerà più avanti, l'importante è che si sia scongiurato il divorzio, poiché si tratta di una pendina fondamentale per l'undici di scazzola.